Una dotazione iniziale di 20 milioni di euro, finanziamenti possibili previsti tra 1,5 e 5 milioni di euro. Procedura Sportello è una gradatoria per accelerare al massimo i tempi e possibilità di finanziamento anche per le new co, le nuove aziende fondate da imprese già esistenti. Sono questi i punti salienti del bando T3 per la competitività delle piccole e medie imprese, pubblicato da Sardegna Ricerche. Con la pubblicazione di questo bando, che prevede a dicembre la fase di caricamento della documentazione, ai primi di febbraio il Click Day, si chiude il cerchio sui bandi per le imprese voluti dalla Regione, che ha messo in campo oltre 250 milioni di euro in due anni per tutte le tipologie di imprese e target di finanziamenti. Quanto sottolinea una nota l'assessore della programmazione Raffaele Paci, la politica a sostegno delle imprese è stata sin da subito centrale nelle scelte e nelle azioni della Giunta, e mai in passato come ora, con la piena consapevolezza che soltanto le imprese possono creare occasioni di sviluppo e dunque di crescita economica e occupazionale. Una politica che garantisce finanziamenti certi. Abbiamo messo in campo oltre 250 milioni di euro e che, contemporaneamente, è sempre stata sostenuta da un forte impegno ad agire sul fronte della burocrazia, anche se trattandosi di fondi europei, purtroppo non è facile semplificare procedure, a volte estremamente rigide, sottolinea l'esponente della Giunta Pigliaro. Di sicuro avremmo voluto tempi più rapidi, ma purtroppo ci sono controlli che non dipendono dalla nostra volontà. Da parte nostra c'è però il massimo e quotidiano impegno per dare le risposte immediate di cui gli investitori hanno bisogno in tempi certi.